Che dici saliamo? Dai, vogliamo vedere cosa ci riserva il piano superiore Vai, via Un'altra frase poetica Sì, wow, guarda Guarda il vento come fa a muovere le ragnatele Inquietante Destra o sinistra? Destra Destra Anche qua, verso il filtra Sì Ah, questo è il colore azzurro predominante C'è un mostro E' un mostro E questo sembra un belzebù E' un mostro E' un belzebù E' pieno di mostri Ok Sul corridoio E' avanti Sì, ma ma che vento E' qua? Cosa vento è qua? Fontanella Oh Dio Strana E questo arco Oddio Ma quindi questo era probabilmente l'appartamento dove viveva? Probabilmente sì, lui viveva qui Sotto c'era lo studio e qua c'era le sue stanze Sì Sì, si ritirava nelle stanze Sì Guardate che c'è uno strato di Eh ti pareva che dovevi Deccartela Di velluti Di... Come si chiama questo tessuto? Pesante, eh? Lana Erano i pantaloni del dottore Qua troviamo anche Qua dentro il suo orologio del dottore No, non c'è uno strato di rolex Eh no, sai quello da taschino che tenevano? E qua Non so cosa sono queste qua Manette Ma cosa sono queste? Ma che... Scusa Ma manette Ma cosa servono queste cose? Ma non so Manette Qualcosa che vede sui tacchi delle scarpe? Per i cavalli Ah per i cavalli Se qualcuno sa cosa possono essere queste cose qui Per me sono quelli che si mettono sotto gli zoccoli dei cavalli No, non lo so Basta dire strunciato come il solito Vestiti Un altro porto documenti Armadio pieno di vestiti Ammassati Di coperto Sì Le solite cose per te Sfumanti anche qua Pino Ferrari Sì, Ferrari Ha questo bel drappo qua per terra Oh sì, è un arazzo Che bello Che peccato che li Sì Ha buttato là Bah Bella questa struttura Che bella, sì Ma che batteria ne ha fatto Ma non è una stufa Scusa Ah questo è un documento Eh sì Una stufa C'è un signore Ah lui? Boh Cattolina postale Cattolina postale E questa? Un'altra da Bicco Questo qui è un aggegirino di quelli che lui usava giù Cosa ci fa qua sopra? Eh l'hanno portato fuori Una letterina Mamma mia Guarda che scrittura Sì Bella Pieno di letterine qua Qua? Cosa c'è qui? Se vado ad entrare in una chiesa In una sacrestia Vado eh Ah una cameretta Oddio che inquietante Cos'è quella roba lì? Un cappotto Oh mio Dio Guarda che strato di ragnatella che c'è Paglissima Io non vado lì Guarda ma sono due pezzi Ma dai Ce lo sollevano ancora un poco Guarda che questo qua è un cappotto Wow c'ha il pelo dentro Ci saranno dei cimici dentro Perché questi letti Come minimo E' un letti abbastanza Sì semplici vero? Sì non sempre davanti persone ricche comunque Sì Magari mettere sui pazienti qua I degenti Ma non credo I lungo degenti No non penso L'altra cassettiera Questa E' del 1935 Wow Non so se si vede Carissimo Leo Oh Ma io non riesco a capire questa scrittura È troppo È troppo E questa in rosa che cos'è? Una multa? Guarda E beh è un avviso di pagamento Avviso di pagamento L'arte di convitare Cosa vuol dire convitare? Spiegate al popolo Convitare? Penso Quando inviti gente a casa Ok Quindi è un bontone tipo Sì è una roba così 1937 No bontone è un'altra cosa Ma che si è trovato? Questo qua è chissima Guarda Oddio Oddio Ah è una Bibbia Tipo Ehi Ma c'era una roba di religione Ma le robe di religione? Sì in latino Ora pro novis Remus L'arte un po' dappertutto Di canone Sta roba qua Ma C'è anche questo qua Stà alla fine dell'ottocento Ma Libri di conti Soldi Soldi Vedi ogni mese febbraio Rimetteva tutti i riporti delle spese Era una persona curata C'era Il bilancio familiare Il bilancio familiare Sì esatto Tu fai il bilancio familiare Mamma mia no C'è poco da bilanciare Sembra di entrare Sai In un confessionale Sì in un confessionale Forte Era una sagrestia Sì Cioè hanno creato praticamente una stanzetta Ma perché gli mancava la porta Quindi hanno dovuto creare la porta in legno Sì Geniali Come ricavare gli spazi Mi piace un casino questa cosa qua Allora Un'altra cosa della prima comunione qua 1905 questo Ah però 1905 E questo è un po' inquietante Sì La Madonna trafitta Un po' trafitta sì Poverla che ti ha fatto Allora Un scrittoio Che bello Che bello Questo qua è una sorta di Bello sgabuzzino Sì Un sgabuzzino grande Perché prosegue tutto di là Fabrica di Waffers Dessert Torino Cioè Che carina Metteva i Waffers Dentro al La cosa di ferro Questo Un fregio Un fregio di una Di qualcosa Di qualcosa Allora Solo per capire da cosa mi condivano qua Sì Qua metterò Un po' di cose così Non si sa Dove siamo qua? Dopo andiamo là? Dove siamo? Ma andiamo prendi là Ma dove siamo? Questo bagno? Ah Ulla Madonna Ma sembra che è roba abbastanza Novechissima È anni 70 Anni 70 80 Da una cucinetta Di vedere Ma qui dove si va? Andiamo dopo La viene dalla cucinetta Ok Mi incuriosisce Che carina Comenzano entrate le vegetazioni È bellissima Oh ma c'è tutto 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 Ma va? No ma guarda cosa c'è di polvere comunque È in tonaco anche Sì È guardato da qua È qua Ma forse È più l'umidità È mangiato tutto All'appiuto No Guarda qua Tutte stesse ringhe? Guarda Ma ancora con gli aghi sono Ma no Ma quelli del dottore? Ma cosa vuoi in cucina? Scusa Facciamo gli esperimenti segreti Cucina Eh beh Quando Abbiamo il lavandino là Per tagliare L'altro cassetto Ma no Che paura Aspetta Guarda che ti rimane in mano Tira più fuori No 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 Ringo Cosa c'è di rinco? È anche la coppa del nonno Guarda Oh sì Il cucchia della coppa del nonno Adesso me la ricordo La ricordo Queste qua Le seringhe Mi hanno un attimino Inquiettata Tutte le storie Pentoline Stampi Ma questo frigo è vecchissimo Ma tutto c'è Secondo me Questo qua è un indesit Una volta Inizia faceva marchio con Rex Perché io mi ricordo che La corona era il marchio della Rex Secondo me L'hanno staccato Può darsi Può darsi Questa è una sorta di Sogiornetto Divanetto Sofà Salotto Salottino Con la sua stufa In terracotta E il caminetto Guarda questa macchina da cucire La Necchi Che non è la Ah non è la Singer La Singer Che è la più famosa La Necchi Dovrebbe essere una sorta di Non dico un sottomarchio Ma è una fabbrica affiliata Alla Singer C'è anche il cestino Eh sì Il cestino da cucita E il cassettino Forse ci sono anche Gli aghi Gli accessori Che cassettino qui Sì Accessori Pezzi di Sì Pezzettini di stoffa Guarda Questa è un salottino C'è stato completamente Decomposto Oddio Sono le molle Sono rimaste Sì Perché qua La finestra è aperta E quindi Tutta l'umidità Quando piove L'ha completamente bagnato E là Anche là c'è roba Oh Dopo andiamo a dare Un uomo inquietante Lì Pauvissima Eh Che bella stanza Che bella E usavano una volta A fare queste Le testiere Con Dei freggi Sì Con le decorazioni Metallici Sì 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 Tutti E questo è un altro Rosario Scusa Eh sì Siamo molto religiosi Una valigia vecchia Guarda Ma quasi tutti I letti Eh che bello Le scarpe Sì Ma c'è una cosa qua Giubbotto Ma Una gonna Una gonna Guarda Che gonna dai Cosa è una gonna Una gonna Sotto gonna Sì Magari un pezzo di visita La sposa Sotto gonna Cioè guarda Le lenzuola Si muovono Come ci fosse un fantasma Guarda 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 È pauroso Eh Questa era una toilette Ragazzi Sreddo Che c'è Oddio Guarda qua Cos'è Oddio Sì Con le scarpe Col tacco Mamma mia Questa è la stanza matrimoniale Che piccola Però Che piccola Ma siamo sicuri Qua io ho paura di Un po' Storto il pavimento In effetti Guarda Questo portagioio Corioseo Siamo stati a Roma Sì No guarda qua Supposte Di glicerina Eh sai Quando avevano problemi Di stichezza Questa penna qua È una penna Guardalo Questo qua Potrebbe essere Il papà Poeta Il medico poeta Potrebbe essere Italo Eh sì Italo Lui 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 Le apparizioni Della madonna A Gaia di Bonacco Oh 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 io io Questa è una cosa Funebre Io non so se toccarla Nonni Non c'è Ma è una cosa Funebre In stanza E che cacchio Ne so io Ma io me la tocco Quella là Neanch'io No questa è inquietante Te prego amo Guarda Cos'è Guarda Ma cos'è Non è morta Oh porcazza Non è vero È una foto Funebre Una foto Funebre Oddio Ma come fai Spero che non fosse qua In stanza da letto Perché io non dormirei La notte Vabbè Tanto comunque Non decide di passare la notte Però è super inquietante Questa cosa Provo a vedere Un altro messale Sacramenti Sì Sì Un libro di preghiere Vecchissimissimissimo Non c'è una data Non c'è niente Tanto vecchio È Guarda Rosa È la rosa bisnonna Forse sì È la bisnonna Cioè Hai visto questo cappottino Che bella È una bambina Questo cappottino È minuscola Non l'avevo visto È un cappottino Ma dai Accendiamo la luce Che si vede meglio Che qua c'è un po' ruo È questa borsetta Mamma mia Questa stanza È veramente Super inquietante Qua è partita Un po' mello Adesso guarda Ecco È per terra Questa è giusta tutto Sì È tutto vuoto Dai Beh sì È tutto vuoto Ok Ci mancano solo Queste stanze buie Ma guarda Guarda che forte Le scarpe col tacco Sì Questo era un armadio No? Questo è un panorama Che si vede da fuori Guarda Il paesaggio collinare Uh Richiudo C'è niente Davanti Allora ho detto qua Potrebbe esserci qualcosa Opa Ua C'è ma questa gigantografia Questa gigantografia Caduta qua Vediamo un po' È un cartoncino Anche Non lo so chi è È sempre la nomma Dove la mettiamo? Qui? È faltare Non lo ho posto Dove la mettiamo? Eh sì È sempre quella È sempre lei È grande È enorme Sì Proviamo Vai Ma se vuoi vado io Che ti faccia luce Sì Però perché messe qui così? Perché per impedire Di entrare dentro Perché ci sono i nostri qua Ma io ho paura Ci sono i nostri Oddio Un'altra stanza Un'altra stanza Un'altra stanza da letto Sì Ma dov'è il letto qua? Non so È proprio buia Buia qua È buissimo Però almeno non c'è vento Un altro armadio bellissimo Un altro armadio Stanza qua ancora Super buia Vieni con la luce Ti prego Wow I portacattini Che bel soffitto Adesso l'ho visto Ma bello Tutto in legno Questi qua ti hanno dei vasi Giusto? I vasi per No Sono portacattini questi Sì ma per farsi i vasi di acqua Per farsi Travarsi Sì anche con lo specchio incorporato Sì Travarsi Qui c'era il capino Qui c'era il sapone E là sotto la brocca E gli asciugamani Mettevano qua Vedi? Qua E là Che belli Vedi? Matti qua Ti po' In questa portatrice Ma chi ci va là? Io ho paura Ancora? Dove stai andando? Ok no Qua ci si ricongiungiamo Dall'altra parte Guardo solo cosa c'è di qua Ah no Sono tornati là della cucina Dove si torna? Ok abbiamo fatto il giro Sono tornati là della cucina Ma abbiamo finito Scusa Abbiamo finito Allora È stata una bella esplorazione Bellissima anche questa Mi ha entusiasmato Questa casa di medici Dentista Libri D'epoca La roba pazzesca Delle 800 Sì 1850 Esatto anche Abbiamo trovato Strumenti medici Affreschi Mobili Di tutti i tipi D'epoca Esaltante Veramente Anche un po' inquietante Quella immagine funeraria Di quel bambino Sì Il bambino morto Mamma mia Vi salutiamo Usciamo via Perché qua c'è Adesso inizio Pieno al vento Vedete Con freddo tremendo Naso rosso Un po' di finestra Seguiteci ancora Mettete un vi piace Se vi è piaciuta Questa situazione Mi piace Sì perché insomma È bella È bella Ok Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.